C'è uno sulla torre e sta scendendo Vai indietro, fai un po' di retro Regà, quello sulla torre all'entrata 1 è sceso, potete entrare penso Quelli all'entrata 1 entrino e si mettono in posizione verso i sacchi di sabbia Adrice, corri all'altro lato Guardate Jack e Lego avanzate verso il centro della banca Ok, ricevuto Qualcuno è riuscito a sfottare almeno un nome per capire che so No, non vedo nessuno No, si si si, sono mafia russa, mafia russa Ah, ok Risulta molto più bello Lo vedo in mezzo Ripeto, Alex, Mark, quello sulla torretta 1 dovrebbe essere sceso Non so se c'è un altro sopra Non abbiamo certezza Non lo capito in mezzo Non riesco a capire, non vedo movimenti sulla torretta No, io l'ho visto assente però non so, c'erano in due magari Che c'è che si parla qualcuno ha sparato? Qua c'è che si parla qualche attraverso il muro Sulla sinistra Io le ho Ok, tiratela sulla torre Eh, da qua è una parola Dobbiamo entrare Dobbiamo fare la sua muro a destra Forse hanno visto uno Ladricio Magra, va aspettate ad avanzare All'esterno, sulla destra Oh, cazzo, cazzo, cazzo Da dove, chi? Da dove, dove, dove Dove, dove, dove Riccomi, scusate Quale torretta? Quella è entrata uno, l'ho visto Ho visto una capacetta che sbuccava Ma non era lui che sbuccava Regatta, montere qua, fa una vista bene Ma questa torretta? Sì, questa torretta qua Vado con una flashbang? Sì, sì, tirano Aspetta, aspetta, vado con la flashbang, attenzione Sulla torretta 1 Ecco qua, che qua Andata Ok, andiamo Ma cazzo, ho preso, non lo so C'è uno dove sono io ma non riesco a capire dove è Vai Attenzione Porca troia Oh, cazzo Cazzo Ah, ce n'è uno sulla torretta, ce n'è uno sulla torretta Quale torretta? Quale torretta? Adesso lo spot, adesso lo spot L'ho messo sulla mappa, un attimo Non mi dà niente, non mi dà Ah, ok Sulla mappa, è sulla mappa E dall'altra parte No, raga, no, raga, la torretta 1, non c'è nessuno qua Dove è nessuno? C'è il punto qui Torretta non c'è nessuno, no Adesso, spiegami come faccio ad ammazzarlo C'è lui c'ha un fucilo a raffica Continua a premere X In continuazione Continua ad abbassare Sì All'altra parte Allora, Magarov e Capitano Alex Marcy Si mettono a mano lontani da la torretta Non troppo, però Dove è? Fa cari che c'è potrebbe essere qualcuno là sopra Eh, scusate Sparano, sparano Dove sono? A me, a me, a me, a me, a me Dove? 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 Non lo so Sei sulla torretta? Ah, no, no, no Sono sulla torretta Ah, ok Qua è pulito quindi? Hanno appena sparato Magarov Sì, no, no Dico qua sulla... Allora, mi faccio cagare sotto Non vedo nessuno qua Farano a me, farano a me Dove? Da la torretta di Smith Eh, la torretta di Smith Fai una cosa, fai una cosa Riesci a fare qualcosa di copertura Che provo a spostarmi A fargli il giro? Provo Allora, Smith Ma arrivo io adesso Dimmi quando cominci a sparargli Aspetta Eh, posso mettere un blocco qui Per non fargli entrare Posso mettere un blocco? Vai, 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 vai Ok, 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 ok Tienilo sottomira, tienilo sottomira Provo a spostarmi Ok, non fatti sbottare Io sono piegato verso destra Come cazzo si faceva Ritornato Ok Ok, pensa Pensa che sono solo io Pensa che sono solo io Raga, ma quella Dovrei attaccinare Non c'è nessuno sopra No, non si può entrare Riesci a farmene un altro Di fuoco di copertura? Raga, mi hanno ucciso Raga, mi hanno ucciso Non so da dove Ma dov'è che eri scusa? Stavo sulla torretta piccolina Io Lui dove mai ucciso E' lui, è lui E' sulla torretta Lo vedo Ma quale torretta Ma quale torretta? La torretta dove c'era la tritura Uno, poco Ma è impossibile che stava torretta da me Vai, 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 vai Lo vedo Lo vedo Lo sparo Mi sparo Ok, 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 ce l'ho fatto, ce l'ho fatto Eccolo lì Ok, tienilo la torretta sottomira Ma stiamo scherzando Oh, mi sparano, mi sparano Cazzo E' qua Aspetta che sta arrivando Mi sto avvicinando alla torretta Mi sa che ce l'ho dietro, eh E' sulla torretta dietro E' impossibile, com'è fatto a salire lì sopra? Eh, non lo so Però tirava anche a me Quindi l'unico era sulla torretta da lì Che mi poteva sparare Ok, aspetta, aspetta Stai lì Stai lì Stai lì Stai lì Allora Eh, se riesco Stai guardando le scale Ok Allora Che cazzo Sparano te? Dove sparano? Eh, mi ha ucciso No, mi hanno ammazzato da dietro Ma Martino, Martino è Jerry, Martino Sì Sì, Martino è Jerry È Jerry? Sì Mi hanno ammazzato da dietro Sta facendo la rapina Eh, sì Sposto io Che è quello lì? Adesso Smette, da dove danno c'è Fazione, eh Perché uno è qua sulla torretta Dove sono io Uno è sulla torretta Eh, lo vedo ma non riesco Non si alza Uno è sulla torretta segnato in mappa L'altro era Ma quanto cazzo dov'era sto lacrimogeno? A destra Del punto Ragazzi, finisce qui sto lacrimogeno Le scale sta scendendo, sta scendendo Alex Dalla torretta? Sì Sì, lo vedo, lo vedo L'ho visto Ragazzi, può che ne rimanga un'invita Perché sennò non ci rianimiamo più, eh Eh, ma non vedo più però Dove cazzo sei? Mi sentite? Eh Ah, ok Sì, un momento Sì, ma non vedo un cacchio Quanto di voi mi hanno fatto fuori? Che cazzo Perché non posso arrestarlo, questo tipo? No, no Porco, due Ah, ma erano due, là Mitt, devo sapere che erano due, là Dexel Dexel ti deveva uccidere da Da Jerry Vabbè Un attimo, anche Cazzo devo aspettare Raga, vabbè, dove sono morto ce ne stanno due, non ce n'è uno Mi è finita l'azione? No No, no Chi è che è rimasto ancora? Vabbè, canteratevi, non li faranno via Continua User joined your channel C'è entrato Degrimper Oh, eccolo là No, bastardo Mentre gli stavo tirando Eccolo qua Ezzo di merda Cazzo mi ha preso mentre mi stavo girando E ma che sei solamente admi nella massima di virus L'avevo visto ma mi ha preso, porca troia Ma comunque mi ha preso Ma chi è che è rimasto in vita? Vabbè, vi lascio giocare Io faccio rispondo, visto che non c'è il meglio Eh, adesso, facciamo un occhio per sbaglio Ho messo un punto qua E ti vuole parte di fare, guarda di là Allora, rispondiamo, chiamato, puoi risponare No Io non l'ho detto rispondo Capitano, possiamo fare risponde? Eh, sì, sì, tanto non c'è il medico, quindi Tira solo e sapere Ma chi è rimasto di noi in vita lì? Cos'è il pip? Vai sulle impostazioni video Sì Oh, ma preso E circa pip Ah, ecco qua S'attivato, basso Non è tocca E che la strage è fatto Si vede proprio una ninchia da notte Eh, no, di notte no E di notte no Non è sparato Non capisco neanche da dove il bello è quello Ah, non mi fa vedere Mi avevo scritto che potevo vedere Neva loot, ma non mi do Non capisco dove mi sparano Eccolo là Sì, sono un coglione Sì, sono un coglione S'hanno fatto a tutti Eh sì Fa una strage Eh beh, la notte fa schifo a fare l'azione Eh, poi se devi No, il problema è che E infatti il problema è che non sai dove sono Finché ti devi appostare prima è un conto Ma se sei già appostato Di notte Eh sì Impossibile Molto difficile la notte Infatti Ma lo sapete dove era quello della torre Che ci ha ammazzato a tutti? Eh, dove? Praticamente c'è presente i tubi sotto la torre? Sì, ci ha ammazzato a tutti Ma ci ha ammazzato a tutti Infatti ho detto Ma andò a sparare Per forza, no? Sì, sì, eh sì Sì, sì Action, action, action Io l'ho chiesto prima Fate salvadati Tra un minuto Non mi... Così, quello, così 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 Ah sì Vero, fate salvadati Che farò un minuto Azza Eh Da giù c'è Se sono bug Mi devi, devi rucidere Poi Riteniamo Cosa? Mi devi sparare E poi rianimare Se ho buggato Perché? Mi sono bugato Un po' più Compranieri Dove stai? Mi ha detto Ehmati Che farò un minuto Che farò un minuto Che farò un minuto Grazie a tutti.